Avremmo voluto essere presenti al raduno che ci sarà qui a settembre a Cesena, non so perché poi a Cesena, veramente dico Peppe Grillo, Peppe e non Beppe, dico tante città, proprio Cesena, invece proprio Cesena devi farlo, questo è da considerare secondo me, però noi non ci saremo, Coppa di Libero cola, è Coppa di Libero secondo me. Dov'è Libero? Facciamogli un fischio insieme. Libero? Libero si è addormentato proprio, si è addormentato, però dirò che io ho il microfono in mano e posso dire le mie cose, in realtà anche noi abbiamo dormito un po' nella paglia, a Borgo Paglia abbiamo dormito, abbiamo dormito anche una settimana a Borgo Paglia, forse un mesetto, forse è una vita che dormiamo a Borgo Paglia e non lo sappiamo. In ogni caso a chi di voi venisse in mente che non ci siamo per altri motivi, non ci siamo perché siamo stupidi. Dobreino vuol dire stupido, ok, punto.